E torniamo in diretta per la puntata numero 140 della nostra rubrica 10 minuti con il legionario, una Roma che è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Verona, una Roma che ha dimostrato di essersi ripresa dopo le settimane burrascose che sono passate in quel di Trigoria, un po' per la questione Dzeko, poi ovviamente per la sconfitta contro lo Spezia, ancora prima per la sconfitta contro la Lazio, una Roma che ha dimostrato di riprendersi prima con la vittoria al Cardiopalma contro lo Spezia, poi vincendo e convincendo soprattutto contro una squadra forte insomma come il Verona che la settimana scorsa ha battuto il Napoli per 3-1 in rimonta. Non era facile, una Roma che ha praticamente concesso nulla al Verona, solo un tiro in porta che poi ha portato al gol di Collei, una Roma che per il resto ha convinto anche sul piano del gioco, inoltre sul piano caratteriale concentrata per quasi tutta la partita, a parte qualche attimo di smarrimento, però la squadra di Fonseca ha dimostrato di stare con il proprio allenatore, ha dimostrato di essere in forma e ha dimostrato di poter andare a Torino sabato ore 18 per una partita fondamentale e ha dimostrato soprattutto di poter vincere. Questo sabato possiamo giocarci la contro la Juventus, una Juventus che è in ripresa, è reduce da una vittoria importantissima in quel di San Siro per 2-1 contro l'Inter, nel quale appunto ha battuto i bianconeri nella semifinale di andata di Coppa Italia, una Juventus che proprio a San Siro qualche settimana fa ha perso per 2-0, sempre contro i Nerazzurri, ma quella partita ha rappresentato un po' un crocevia per quanto riguarda la stagione della squadra di Pirlo, perché da lì in poi la Juventus si è ripresa e ha collezionato vittorie su vittorie, prima la Supercoppa contro il Napoli e poi anche la vittoria in campionato contro la Sampdoria e questa settimana appunto qualche giorno fa gli uomini di Pirlo hanno battuto in Coppa Italia l'Inter di Antonio Conte. Una Juventus quindi che arriva a questa sfida molto in forma, anche la Roma arriva molto bene, abbiamo vinto appunto per 3-1 contro il Verona, adesso siamo terzi a 40 punti, una Juventus a meno 1 dalla Roma a 39 punti, ricordiamo che la Juve però deve recuperare ancora la famosa gara contro il Napoli, una Roma che deve vincere per mille motivi, insomma perché innanzitutto a Juve Roma è una vittoria in una partita del genere potrebbe darti uno slancio per il resto della stagione, vincere soprattutto inoltre per la classifica perché ovviamente andare a più 4 dai bianconeri sarebbe tanta roba, anche dal momento per quanto riguarda chi ci sta sopra dal momento che la Roma ricordiamo che è a meno 6 dal primo posto occupato dal Milan che riceverà il Crotone in quel di San Siro e siamo a meno 3 dall'Inter che non ha una partita facile, aprirà infatti la sfida del Franchi-Fiorentina-Inter questa nuova giornata di Serie A, un Inter che parte con i favori del pronostico ovviamente perché sulla carta è più forte rispetto alla Fiorentina che sta facendo tutt'altro che una buona stagione ma i nerazzurri potrebbero fare un passo falso e la Roma ovviamente vincendo a Torino potrebbe approfittarne, speriamo di portare a casa una vittoria in quel di Torino, sarebbe molto difficile, sarà molto difficile è chiaro perché insomma giocare contro la Juventus non è mai facile, però ecco la Juventus va detto, non è quella degli scorsi anni, ha perso un po' di solidità, ha sbagliato molte partite quest'anno per cui non vedo perché la Roma non debba imprimere, non debba imporre il proprio gioco sui bianconeri e non vedo perché la Roma non possa portare a casa i tre punti, sarebbe veramente una vittoria molto importante, sarà difficile inoltre perché la Roma dovrà fare a meno sia di Smalling che di Pellegrini, Smalling purtroppo sta avendo molti problemi da quando è tornato a Roma, purtroppo nuova lesione al flessore della gamba sinistra per Smalling che è dovuto uscire dopo dieci minuti nella partita contro il Verona, facciamo un grande in bocca al lupo a Smalling con la speranza che possa rientrare il prima possibile e soprattutto con la speranza che possa riprendere al più presto la forma migliore Chris Smalling perché manca molto un centrale come lui, sappiamo insomma che quando è in giornata è il centrale più forte della Roma, il centrale più forte che abbiamo ed è fondamentale un suo ritorno a pieno regime e l'altra assenza anche questa molto molto pesante è quella di Lorenzo Pellegrini che purtroppo era nell'elenco dei diffidati, è stato ammonito contro il Verona e salterà la partita contro la Juventus per cui Fonseca dovrà insomma un po' reinventare la squadra, probabile formazione sempre il consueto 3-4-2-1 salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto, Paolo Lopez tra i pali, Mancini centrodestra, Ibagnez con Bulla che andrà a sostituire appunto Chris Smalling con Ibagnez che si sposterà al centro della difesa in cui secondo me appunto Ibagnez fa meglio quello è il suo ruolo a mio parere, sta facendo molto bene anche contro il Verona in quella posizione dopo che è stato sostituito Smalling ha giocato un'ottima partita poi a destra Karsdorp, Cristante forse in mediana insieme a Veretus, Spinazzola a sinistra sulla tre quarti Mkhitaryan e Villar e davanti Borca Majoral. Questa è una formazione insomma è un po' difficile prevedere le mosse di Fonseca perché a causa delle assenze di Smalling e Pellegrini il mister dovrà un po' reinventare la squadra. Villar può fare il tre quartista, potrebbe giocare lì dal momento che purtroppo Pellegrini è indisponibile, Pedro oggi si è di nuovo allenato a parte nel caso in cui la Roma dovesse recuperare Pedro potrebbe giocare lui insieme a Mkhitaryan però ecco Villar lo vedo come il favorito come tre quartista al fianco di Mkhitaryan e Majoral in questo momento è imprescindibile, sta facendo molto bene, è andato a segno anche contro il Verona. Dzeko tornerà a disposizione per la disposizione di mister Fonseca, pace effettuata tra Dzeko e Fonseca. Ieri Tiago Pinto in conferenza stampa ne ha parlato ma adesso approfondiremo anche questo aspetto. Potrebbe accomodarsi in panchina ed in Dzeko Majoral credo che il mister non se ne privi insomma perché sta facendo veramente troppo bene e non puoi toglierlo in questo momento. Diciamo che Dzeko molto probabilmente comunque sarà della partita, bisogna solo capire se entrerà a partita in corso oppure se partirà dal primo minuto. Ieri appunto è intervenuto in conferenza stampa Tiago Pinto in cui ha spiegato il mercato della Roma, ha detto che per fortuna, insomma per il bene della Roma Dzeko e Fonseca hanno fatto pace, è stata raggiunta questa tregua perlomeno fino a giugno, fino alla fine della stagione e ci permetterà appunto di vivere un finale di stagione un po' più sereno ecco in cui non ci sarà questa tensione che è stata percepita in quel di Trigoria nelle ultime settimane. Era importante che si trovasse un accordo, per fortuna è stato trovato, Dzeko ovviamente non sarà più il capitano perlomeno al momento, non sarà più il capitano della Roma fascia a Lorenzo Pellegrini, direi decisione saggia, era il minimo che la società potesse fare dopo l'atteggiamento del bosniaco e poi è chiaro che a giugno uno dei due dovrà uscire ma staremo a vedere, ancora è lunga, c'è tutto un girone di ritorno da giocare quello che sappiamo è che Dzeko deve onorare la maglia da qui fino a giugno ha avuto dei comportamenti sbagliati, su questo non ci sono dubbi la società avrebbe potuto prendere dei provvedimenti più drastici è stato, abbiamo provato a venderlo, non ci siamo riusciti ora è in rosa, quindi va sfruttato ovviamente perché è comunque un giocatore imprescindibile per questa Roma parliamoci chiaro, è l'attaccante più forte che abbiamo è il giocatore anche che prende di più quindi capisco che mettere fuori rosa un giocatore che guadagna 7 milioni e mezzo l'anno non è facile, per cui deve onorare la maglia, assolutamente deve dare il meglio di sé fino a fine stagione e poi a giugno vedremo il da farsi quello che è importante è che sia stato fatto il bene della Roma mi è piaciuto molto l'atteggiamento della società in questa situazione una società presente per la prima volta da qui a 10 anni che ha potuto operare sul campo, Tiago Pinto è arrivato a Roma e ovviamente insomma l'ha detto anche lui ieri non ha passato un mese facile tra mercato e arrivato che aveva il Covid è arrivato a un mercato in corso, si è trovato di fronte a questa situazione e in più ha dovuto anche prendere due giocatori El Sharawi e Reynolds, Tiago Pinto però che non si è ritenuto soddisfatto appieno del mercato della Roma ha detto di essere una persona molto esigente con se stessa e non è soddisfatto per il mercato in uscita in effetti perché la Roma ha diversi esuberi da piazzare penso a Santon, penso a Fazio, Juan Jesus, Carles Perez che ormai insomma abbiamo tantissimi giocatori sulla tre quarti e Carles Perez sarebbe dovuto essere il primo giocatore ad uscire però Tiago Pinto purtroppo non è riuscito a piazzare nessuno di questi esuberi l'ho detto proprio esplicitamente che è amareggiato sotto questo punto di vista però sono molto soddisfatto personalmente parlando del mercato della società in entrata perché andano colmate delle lacune soprattutto per quanto riguarda il terzino destro abbiamo preso Reynolds che sta facendo individuale in questi giorni ha avuto il covid per cui gli va dato un po' di tempo per recuperare forse potrebbe strappare una convocazione per sabato contro la Juventus è molto impensabile vederlo in campo già da sabato chissà magari dalla prossima settimana potrebbe iniziare ad allenarsi in gruppo e potrebbe strappare qualche minuto per la prossima partita Reynolds questo ragazzo di cui Pinto ha parlato benissimo in conferenza stampa ieri ha detto che è un gioiello e ovviamente deve migliorare la Roma ha preso un gioiello e sarà a Fonseca e nelle mani di Fonseca questo ragazzo e speriamo che il mister possa valorizzarlo al meglio per quanto riguarda il Sharawi un po' più probabile che il Faraone riesca a strappare una convocazione per sabato e chissà magari potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto un po' più difficile vederlo partire dall'inizio dal momento che oggi ha effettuato individuale e una parte in gruppo ma anche lui ha avuto il covid non gioca da molto, si è allenato da solo l'ho detto nella conferenza stampa di presentazione però insomma è un po' più avanti nella parte atletica rispetto al Reynolds e chissà magari il Faraone potrebbe giocare qualche minuto contro la Juventus il Sharawi che nella sua conferenza stampa di presentazione ha ribadito ancora una volta la sua contentezza di essere tornato alla Roma era l'unica cosa che voleva e ha detto che ovviamente il suo obiettivo personale è quello di tornare all'Europeo dal momento che c'è l'Europeo lo sappiamo, il Sharawi è una motivazione sicuramente per la quale è tornato a Roma è che è anche l'Europeo dal momento che ovviamente è lecito che sia un suo obiettivo e per quanto riguarda l'obiettivo di squadra è quello di tornare e di centrare la Champions League una Roma che deve arrivare tra le prime quattro una Roma che secondo me con questi due acquisti ha una rosa ancora più profonda e nel caso in cui dovessimo continuare così, cosa che ci auguriamo tutti quanti potremmo puntare anche un po' più in alto una Roma che deve andare a Torino sabato e cercare di vincere non sarà facile, le assenze sono pesanti quella di Smalling e quella di Pellegrini Fonseca dovrà un po' ridisegnare la squadra ma sono convinto e me lo auguro soprattutto perché dobbiamo dare una risposta dal momento che la Roma contro le Big non ha mai fatto troppo bene l'ultima volta contro la Lazio abbiamo perso 3-0 con una prestazione indegna dobbiamo dare una risposta anche sul piano dell'atteggiamento e sarà fondamentale cercare di portare a Roma i tre punti per il morale, per la classifica e poi una vittoria a Torino insomma ti darebbe, ripeto, uno slancio per il resto della stagione arbitrerà Orsato, l'ultima partita che ha arbitrato è stato proprio il derby speriamo che questo arbitraggio porti un po' più fortuna l'ultima volta non è finita proprio bene e speriamo appunto che la Roma riesca a battere la Juventus detto questo ragazzi noi ci sentiamo settimana prossima per un nuovo appuntamento della nostra rubrica 10 minuti con il legionario io vi invito a seguirci sui nostri social su Facebook, su Instagram, su Twitter iscrivetevi al nostro canale YouTube dove trovate tutti i nostri podcast seguiteci sulla nostra web radio speaker il legionario leggete tutti i nostri articoli sul nostro sito www.illegionario.info un saluto a tutti e sempre sempre Forza Roma